Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ma soprattutto benvenuti nel format che più vi piace Ovvero per ogni rigore sbagliato bisogna toglierci con il momento Ragazzee! No 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 Io ho detto ragazze non ho detto Ah ragazze! Che ci fate voi qua? Però dove sono queste ragazze? Io non le vedo Ragazze! Siamo qui! Ragazze! Sara tata tata! Sara tata tata! Sara tata tata! Sara tata tata! Mamma! Allora ragazzi! Alla mia sinistra! Ragazza! 100% italiana! Non sembrerebbe perché sembra più russa che italiana! Russi! Sofia! Davanti! Allora Sofia che ruolo fai? Difensore centrale barra centrocampista Molto bene abbiamo bisogno di qualcuno che sappia difendere Andiamo avanti signori! Lei non l'avete mai vista! Sangue caliente! Molto bene! E' rossa di capelli! E' golosa di... Claudia! Ciao! Ciao! Allora Claudia come ti senti? Come stai? Carica! Carica! A mille proprio! Vai! Andiamo! Qual è il tuo valore preferito? Portiere! Portiere! Devo parare un po' di palle! 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 Va bene! Andiamo avanti! Eccola qui! Tipa Milan! E si vede! Anche lei è rossa di capelli! Golosa di qualcos'altro! Andiamo! L'ultima ragazza che l'avete già vista! Non è nostra di proprietà! Cioè non è mia di proprietà! Ma è di proprietà di un ragazzo che ho qua di fianco! La conoscete già! E' le onore ragazze! Le donne non sono una proprietà! Le donne non sono una proprietà! Le donne non sono una proprietà! E' le ruolo preferito? Attaccante! Attaccante! Ma meglio o peggio di Pierino? Meglio! Ragazze il format già lo conoscete! Praticamente per ogni rigore sbagliato vi dovete togliere un indumento a scelta! Ad andare in porta ci sarete voi! Sono esclusivamente voi quindi dipende un po' dal vostro destino! Quanto siete bravi a segnare e quanto siete bravi a prendere i palloni! Detto questo signore abbiamo un arbitro d'eccezione! L'avete già visto! E' quello qua! Voglio gioco sporco! Il che vuol dire che dovete essere molto sporco! No! No! Le regole le sapete? La prima che vince si deve sfogliare! No! Non facciamo così! Chi vince la deve dare! No! Chi vince si porta a casa! Vabbè avete capito il gioco! Ok! Ci siamo! Va bene ragazzi! Detto questo! Iniziamo! Signori! Ad iniziare in porta ci sarà un portiere d'eccezione! Perché la prima si sbaglierà! Dopo dovrà prendere il suo posto! Ayub e il Bub! Signori! Ok! Un portiere nato ragazzi! Ayub! Sei pronto a parare i palloni di queste donne? Assolutamente! Perché ricordami un attimo! Se la paro! Mi devono togliere un indumento! Si! Allora la parerai! Allora parerai eh! Detto questo! Buona fortuna Ayub! E io vi ricordo che chi perderà! Sarà presa! E sarà buttata! Da quel uomo lì grosso che vi detto! Da quel uomo lì grosso! In piscina! Vero che la butterai in piscina? Perché la butti in piscina? Perché sono un maranzo! Perché la butti in piscina? Perché sono un maranzo! Perché sono un maranzo! Perché è un maranzo! Tu devi stare attento! Primo rigore! Chi vuole partire? Parte Sofia! Bene signori! Allora parte Sofia! Forse la più brava! Non lo so! Ma! La più in gamba! Attenzione! Ed è gol! Ed è gol! Prossima! Eccola Sofia! Pagione! Gol di Sofia! Ele! Ah! Oh! C'ha le scarpe da calcetto eh! Le scarpe sempre! Ah! Regalo di Pierino! Tira come sai tirare! Come ti ho insegnato! Allora se ti hai insegnato! L'ho parata! L'ho insegnato io questo risultato! Che cosa ti togli come primo movimento? Sei sicura no? Sei sicura no? Cappellino! Via cappellino per Eleonora! Quindi signori tocca all'ultima concorrente Claudia ed Ele dovrà parare perché non c'è più il portiere! Allora parte! Claudia! E' baro! E' baro! E' baro! E' baro! E' baro due volte! E' baro due volte! Attenzione! E quindi Claudia cosa decidi di toglierti? Le shoes! Le scarpe! E allora via le scarpe per Claudia e si continua! Allora io non ho il cappellino, non ho le scarpe e io non posso sbagliare sui rigori! Parte Sofì! Ah dai la centrale questa! Porca troia centrale capisca! Io mi volevo sbagliare la maglia, non me la farà! E ora sta la milanista! Attenzione secondo Godi! E quindi si salva anche lei questo tuo! E allora ragazzi sta nuovamente a Dele che deve segnare perché prima era sbagliata! E non la para! Ah prometto che adesso mi concentro vai vai! Attenzione si concentra Claudia! Claudia abbiamo saltato un furro in cui non ne è parlato neanche una eh! Mi raccomando! Bravo Di Mancino! Di Ancino che viene fuori! Non è sicura nulla! Fuori! Incredibile! Sofia sbaglia e credibile! Cosa cosa decidi? Aspetta devo un attimo pensare! Direi Pantanoi! Eh Pantanoi ci sta Pantanoi! Eh non credo! Mi sa che tolgo la maglia perché ci sono le api e non posso togliere i calzetti! E allora Sofia decide di togliersi la maglia! Via! La maglia per la Sofia! E allora sta Sofia e la milanista! Vediamo si studiano! Oh! 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 Incredibile! Oh! Oh! Parata! Attenzione! Secondo rigore sbagliato per Ele! Scegli tu per noi! Scelgo io per te! Ah bello questo! Mi piace! Guarda! Mi vorrebbe da dirti le scarpe però le scarpe ti servono per tirare potente quindi escluderei le scarpe! I capelli! I capelli! I capelli! I capelli! I capelli! Sta una scelta molto difficile! Sta analizzando! Sta analizzando! Sta analizzando! Quello che le stava portando male ragazzi è il nome che c'è qui dietro! Pierino! Stava prendendo un po' della mia qualità purtroppo! Quindi direi togliamo la maglia! Pierino 18! Via la maglia per Ele! Sta toto! Sta toto! Sta toto! Sta toto! Sta toto! Ah che uomo sei? Dejia! Musica épica! Oh! Ah ma finisca! Ok! Non guardate! Non guardate! Vediamo la reaction della madre! No! Ti dissociava ragazzi! E allora signori! Proseguiamo! Va due! Guarda! 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 e sbaglia ragazzi in maniera clamorosa claudia quindi claudia io direi pantaloni perché tanto la maglia si arriva fin qua va bene i pantaloni via i pantaloni per claudia allora entriamo nel vivo signori iniziamo entrare nel vivo e allora ora sta di nuovo a sofia sofi io sto già rischiando perché si è perché ti mancano due in domenica o tre o quattro prego sofi o allora bel gol di sofi la sofia è troppo vestita claudia bravo che cazzo c'era anzi la prestazione e quindi cosa scende maglia maglia va bene allora via la maglia incredibile via la maglia via tutto ricominciamo altro giro altro destino ele prima hai sbagliato ora devi segnare contro la sofia via le scarpe per ele e 1 e 2 via ora sta claudia che fino adesso non ha mai segnato signori non ha mai segnato per una persona speciale che ho sempre nel cuore piangiamo che si tratta e sofi sbaglia non segna qui maglia e non farlo più prima di tirare ragazzi ero io la persona speciale no e le api le pesto mi interessa e tolgo i calzini calzini via i calzini per sofi che rimane a sua scelta con solo un indumento signora a meno che non decida di togliere la nuova versione del video dobbiamo cambiare un po' ora sta di nuovo la sofi sofi sei pronta eh perché se noi ti devi togliere un altro indumento pantaloni così lento però molto 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 lento vogliamo da una cosa molto lenta vieni 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 guarda la telecamera ok in che senso ragazzi non sto capendo signori signori no bene signori andiamo avanti perché non è ancora finita let's go andiamo avanti sta di nuovo lei prego claudia ok bene andiamo avanti signori ma però due ore di fila male male quindi devi tirare alla gnavri come ti ho insegnato finì di merda zero pressione faccio sognare ha tirato a gnavri prendo palo come sempre e allora sofi in maniera clamorosa sbaglia e potrebbe essere eliminata signori è finita si è preparata signori e quindi non ha perso ma la truffa questo ma di nuovo un'altra sofi ti mancano due indumenti è ripartita benissimo eh grandissima parata via le scarpe potenzialmente il prossimo turno potrebbe essere decisivo per la soffi 1 e soffi 2 allora ele ti devi rifare come fare io e le segna si salva e ne cosa vuoi dire niente sono contenta allora la prossima io lo so che voi volete che io sbaglio questa volta non sbaglierò dichiarazioni importanti allora al prossimo episodio non succede e non succede e mo signori sofi io adesso non so se hai altre sorprese speriamo di no speriamo ho sempre delle sorprese per te devi solo segnare se non segna hai perso sofi e quindi non perde per la sfortuna di gnavi che sperava che sofi perdesse vai impegnati in più sofi e quindi e le sbaglia e le calcettoni calcettoni via i calcettoni per ele e anche lei rimane ad un indumento solo signor attenzione stiamo rischiando qua non puoi più sbagliare bene sta nuovamente la claudia claudia quasi sbagli grave sbaglio stai il castellino ragazzi nuovamente se sbaglia ha perso sofi se sbaglia ha perso basta tirare preciso e anche lato come hai fatto quindi soldi si salva signori siamo arrivati verso la fine con lei che era partita meglio di tutte le altre sbaglia ha perso definitivamente questa signore e signori abbiamo la perdente ufficiale di questo video e quindi via i calcettoni facciamo i complimentoni alle ragazze che sono rimaste decise che non ci sono però però dato che fa caldo sofi la bionda caldo ci alleniamo dai allie stessi per il capellino per il capellino marato via via tutto dato che fa caldo come vi avevamo promesso ci doveva pensare il maranza a buttarti in acqua in acqua signori e quindi e quindi finisce così questo meraviglioso video io ringrazio tutte le ragazze per aver partecipato e soprattutto claudia vai claudia in acqua e noi ci vediamo in un altro meraviglioso video sempre qua sul canale mi raccomando link in descrizione per i profili di tutte queste bellissime donne qua dietro iscrivetevi al canale e lasciate un commento perché al prossimo episodio porteremo degli ospiti veramente speciali a fare questo format provate a indovinare chi dalla villa per la sua ragazzi ciao 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 ciao